Tranquilli che domani ci abbiamo già... Leo! E' caro! Abbiamo già domani! L'argomento! Leo! L'argomento! L'argomento! Un glimbo! L'argomento! No, e non più, dicevo, perché adesso dobbiamo trovare il posto a questo ragazzo. Sì, oggi la puntata è dedicata alle raccomandazioni. Cioè, come si fa a bypassare, a saltare gli ostacoli avendo delle amicizie? Allora, abbiamo provato prima con Fioretta Mari e non ci siamo riusciti. Con Geritone non rispondo. Voi avete il numero di qualcuno che è stato amici, questo ragazzone 22 anni, non può bruciarsi così. Qualcuno che conosce la De Filippi, qualcuno che conosce la De Filippi. Allora, possiamo dire che questo programma qua, non so, nelle radio milanesi non si farebbe mai? Assolutamente, noi difendiamo solo i meridionali. Scusa, se posso. E beh, allora, allora, a chiunque... Radioteca, mi sembra questo. Chiunque voglia raccomandare a questo bel giovinotto del sud, e lo voglia far tornare ad amici, beh, ce lo può dire al 33, 6, 4 volte 4 e 10, magari ci mandi il suo numero. È nulla. Non è che ce lo deve dire. È nulla, è una persona influente, è nulla, è una persona influente, capisce a me, Erick? Che la chiamiamo e ci mettiamo un po' d'accordo. Dobbiamo raccomandarlo, deve tornare lì e riprendersi il suo posto. Noi, Enrico, abbiamo a disposizione ancora un'ora, questa è la nostra missione. In un'ora ci dobbiamo arrivare. Ti fidi di noi? Sì. E vai male, vai male. A profondo.